Giorno. Giorno, dica. Caffè? Sì. Senta, scusi, magari decaffainato, va. Scusi, giovane, magari un po' caldo. Senta, però la tazza fredda, eh. Senta, magari ci metto un po' di panna. Sì, giovane, però, non troppa schiuma, però, eh. Scusi, un goccio di sambuca? Senta, però lo zucchero di canna e magari alla fine lo spruzzo di cacao, eh. Senta, vuol passare domani per un primo assaggio? Così ti rego, se ti piace, va bene.